Auto a fuoco e semina il panico al centro commerciale, momenti di paura. Stamattina il grifone di via Valsugana a Bassano, dopo che dalle grate esterne a livello strada collegata al parcheggio interrato è stato notato uscire del fumo. Subito gli uomini della sicurezza hanno chiamato i pompieri che, giunti con due mezzi, sono riusciti a spegnere le fiamme. Ingenti i danni alla Smart, all'origine un cortocircuito dell'impianto elettrico del mezzo. Viola l'obbligo di dimora in più occasioni per andare a rubare in manette Fabrizio Pettenuzzo, 48enne cittadellese. L'uomo era già stato arrestato per furto dei carabinieri di Cittadella e il giudice l'aveva graziato dal carcere, costringendolo a restare nella casa San Francesco di Marniana a Bassano. Ma lui non ha per nulla rispettato la misura, almeno tre i furti di biciclette attribuitigli, l'ultimo l'altro giorno e ora rinchiuso al Sampio X. È stato grazie alla pronta segnalazione di alcuni residenti che i carabinieri hanno colto sul fatto Mustafa El-Aji, 27enne magrebino, residente a Bassano, già noto alle forze di polizia. L'uomo deve rispondere di furto e tentato furto in abitazione. Ieri sera è stato bloccato in un garage di via Luciano Manara a Bassano, mentre stava rovistando tra gli scaffali. Portato in caserme perquisito, gli hanno trovato addosso attrezzi da lavoro che aveva rubato pochi minuti prima da un altro garage di via Pellico a Cassola. Oggi la convalida dell'arresto è a disposizione della custodia in carcere.